Il Natale di Pesaro è pronto a scaldare la città. Pesaro nel cuore infatti prevede tantissime iniziative dedicate alle festività promosse dal Comune in collaborazione con tante associazioni del territorio. L'accensione dell'albero è prevista per giovedì 8 dicembre alle 18 in Piazza del Popolo con una cerimonia che sarà un tocco al cuore e stupirà con effetti speciali e con le canzoni interpretate dal coro Grillo d'Oro. Tra le tante altre iniziative anche la collaborazione con Coccole Sonore che proporranno lo zainetto delle meraviglie ancora più ricco di regali per le famiglie. Partecipiamo insieme a tanti bellissimi altri eventi a colorare il Natale di Pesaro. Quest'anno siamo sul palco dove ci sarà uno spettacolo tratto dalla puntata che è in onda su Cartonito in questo momento della serie Whisky sui amici. Quindi sarà uno spettacolo interattivo fra video coloratissimi, bellissimi, canzoni, balletti e recitazione. Inoltre abbiamo dei gazebi dove facciamo dei laboratori e uno è veramente speciale. Si chiama il Melegatti Lab. Stiamo facendo con DNA una grandissima operazione su una Spice Story dove praticamente cosa succede? Hanno rubato dei pazzi la ricetta di Melegatti e si è sparsa poi in tutto il mondo perché si è scoppiata e distrutta e quindi c'è una grande ricerca, una Spice Story e questa partirà sul web in grandissima diffusione dal primo di dicembre seguendo il piano del calendario dell'avvento ma sarà live a Pesaro. Quindi i bambini potranno giocare, vedere l'episodio di questa Spice Story e divertirsi insieme a questo grande progetto con anche grandi sorprese. Abbiamo un ulteriore gazebo dato che siamo in un momento un pochino dove dobbiamo tirare la cinghia e in tutti i sensi è bene fare una buona sana alimentazione quindi cercare di andare al risparmio ma facendo un bellissimo Natale abbiamo un laboratorio di cucina dove spieghiamo delle ricette anche queste molto salutari, molto economiche ma per fare un Natale veramente importante, bello e dietetico tra le altre cose quindi con i consigli abbiamo degli esperti di alimentazione e uno chef anche questo come tutte le tradizioni di DNA vengono dal web e sul web si potranno ritrovare i video delle ricette presentate tutte le schede quindi le persone che verranno potranno poi tranquillamente a casa riproporre le cose. Abbiamo un ulteriore laboratorio invece con la Lega del Filodoro dove facciamo delle esperienze sensoriali sul Natale le famiglie verranno bendate in un gioco, dovranno riconoscere delle cose e l'abbiamo già fatta a Milano a bimbi in fiera ed è stata una cosa molto interessante e divertente. Quindi proposte diverse, balli, canti, laboratori, giochi e cucina una piccola variante sul Natale. A portare spettacolo e divertimento sarà poi Pesaro Village tornerà anche in via Curiel il luogo dedicato al villaggio Natavis e poi il Natale diffuso grazie alle associazioni del territorio e quartieri che presenteranno iniziative ed appuntamenti in tutto il territorio.